I giovani e le infezioni sessualmente trasmesse. In tempo di pandemia il Covid ha assorbito tutte le energie, ma ci sono tante altre malattie infettive che non arrestano la corsa. È il tema dell'incontro organizzato da Croce Rossa con Asle Università. Prevalentemente si è parlato dell'HIV e anche delle attività di educazione alla sessualità e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. C'è da dire che con il lockdown e i minori contatti tra le persone c'è stato un calo dell'incidenza, almeno a guardare i dati e i numeri, ma secondo il primario di malattie infettive Alessandro Grimaldi, l'HIV è solo sottovalutata mentre continua a mietere tantissime vittime. È più un calo apparente che reale, nel senso che chiaramente il lockdown ha ridotto i contatti tra le persone, presumibilmente ha portato a minore possibilità o opportunità di contagio, però nello stesso tempo si pensa che i dati ufficiali che vedono un calo dell'HIV nel 2020 siano in realtà, diciamo, sottostimati. Per cui ci aspettiamo che ci possa essere un rebound, un rebound anche legato a un'euforia post-allentamento del lockdown. Sta di fatto che al di là delle considerazioni sul Covid, l'HIV rimane una malattia importante che miede ogni anno molte vittime, per cui noi abbiamo inteso riavviare la nostra campagna di prevenzione. La Croce Rossa, dal canto suo, come spiega il Presidente del Comitato dell'Aquila Marco Antonucci, continua le attività di prevenzione ed educazione e si sta cercando di organizzare anche una giornata di test anonimi in città. Oggi trattiamo quella che è una delle forze più sentite anche da noi, nasce da Roma con Villa Maraini, Fondazione Villa Maraini Croce Rossa. Lo replichiamo qui, abbiamo la fortuna di avere un counselor che è Angela Infante, fa parte anche della comunità LGBT e quindi anche lei oggi ci dà una mano su quello che è poi la parte anche più umana, oltre che quella del virus. Quindi sì, continuiamo, andiamo avanti. Speriamo il 14 di essere in piazza per questi test, fai il test anche tu e quindi faremo dei test anonimi sempre con il dottor Grimaldi, il dottoressa Picchi e il dottor Cicullo e col supporto della Croce Rossa regionale Abruzzo, quindi il dottor Perfetti. Grazie a tutti.